Sono tutti l'uomo di Neandertal e c'è motivo di dire, se volete, che i veri europei sono loro, perché loro sono stati gli occupanti dell'Europa da 300.000 fino a 30-35.000 anni fa. Noi 30-35.000 anni fa siamo arrivati dall'Africa, gente con fronte come la nostra, piatta, mentre Neandertal aveva un espessimento osseo su cui, volendo, si poteva tenere in equilibrio una matita, ma non avevano matite, quindi non se ne sono mai fatti niente di questa loro prerogattina.